Aspetta, dove stanno? Lì, l'amore! Stanno lì, sì! Questi perché fanno i video? Ah, stanno facendo i video? Le sorelle di YouTube con reaction ai pompieri. Video reaction... Ma mette mai la mano però! Eeeh, che stai non muorevi, Parkinson! La fatta un blu'antra, no, signor... Sì, signor pompieri, ma faccio qualcosa, che fai! Eh, ma la scala dove l'hanno messa? Sì, hanno posata! Hanno posata? E quelli che ci accerano? E' morta la signora, nel frattempo? Ma se non è già morta? Ho sicuro che la signora non è un signora? Ma che ne so... Non so, ma... Vedi, devono andare... Sì, in quel portone. Ma pare che vengo morviva, Parkinson! E non hanno capito, veramente... Guarda, 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 guarda la mia mano! Hanno fatto il tuo stomaco, questo video! Vedi? Dì, aspetta! Che vedo messa l'unico volta al stomaco! Ma veramente, non posso neanche... Nella cosa della monnezza? Faccio della... Eh, sarà monnezza! Su per la ringhiera! Eh? Oddio, no, aspetta! Mi trema tutto! Oddio, guarda, guarda che stanno... Ragazzi, non è che c'è il terremoto, eh? Se ne è arrivati i pompieri, no? Perché potremmo capire... Ehi, però potremmo fare il terremoto! Ecco qua, è tutto normale! È tutto normale, no? Cosa c'è di normale in tutta questa situazione? Sto appucciando la macchina, non può pompieri? Mi sono la mano di cipolla perché sto facendo l'agnello. Senti? Schifo! Ragazzi, il pompiero non sta appucciando niente, si è appucciando la macchina. Veramente, guardate! E' morta la signora. Soprattutto quando faccio lo zoom, che zoom... Eh, ti trema la mano? Mi trema tutto il... Carino il pompiere, però... Ah, ma guarda! Guarda! Ah, il pompiere, guarda! Però quello con la barba. Che carino. Il pompiere, con questa scala, vieni qua! Sì, no, ma io ne voglio che tu trema meno la mano. Mi sembra che era basciuta, eh? Guarda, ci si chiacca! Mi sembra che tu te la fai una basciuta. E' lo sto pompiere, allì. Guarda, vedi che la mano è più ferma. Ah... Il pompiere? Mm-hmm! Aiuto, mi sento male! No, che devo andare in grambulant! Ma che stanno facendo? Stanno discutendo su quello? Ma io voglio che faccio un mestiere. Ma capi, io ammari andrò prima via. Ma io non stai fai, stanno dicendo. Quello fa quello sotto. Questo qua, piccolino, che ha appoggiato la macchina rossa. E non lo staccio. Vediamo un po'. Chi è questo? La cinese. Ah, cinese. Ah, guarda la cinese, no. Ecco un altro che esce da... Uè, voglio, voi ci chiacchierate, venite a rindo, forza! Ah, qui con... Tu vuoi addirittura? No, uno. Eh, vabbè, la tre. Ah, una con lo zanetto del soccorso. Addirittura? Ma è morto? Allora, ma quando è che ne sono sotto staggianti? Ma quando è che ne sono sotto staggianti? Ma c'è distratto. Poi guardavo il camion e ne avevo gestato tutto questo. Si abbracciano, no? Che si abbracci. Chi è che si abbracciano? Si abbracciano in giù. Quelli due, quelli dell'ambulanza. No, uno. Sono abbracciati, no? È una storia. E ora, vuoi fare un momento in limonà? Un altro ancora. Guarda, quello è muscoloso. Ah, che fisichetto questo. Mi sento male. Aiuto. Tu ve lo prestante. Ma chi sei? Un angelo. Hai capito perché che si fa tutta l'alora? Oh, sì. E allora? Che facciamo? Stasera, abbandoniamo questa adbrut. E ce ne andiamo io e te? Sì, dobbiamo fare così. Io ce l'ho cambiata nello zaino. Ti piensa che tenga un pochino pronto soccorso. Niente. Vengo la cambiata. C'ho il tacchio a spillo. Se ne vanno. Se ne vanno. Ritorniamo al pompiere. Stanno ancora lì i pompieri, no? Non ho detto che i tuoi chiacchiere, no? Stanno di dove invece gli faticano. Ma che si è facito? Non si è capito. Hanno fatto un cazzo, veramente. Perché i tuoi stanno ancora lì facendo una cosa. No, non ho tornato a capire. Fanno una cosa a tre. Stasera, facciamo una cosa a tre. Se ne vanno tranquilli. Non è morto nessuno, ragazzi. Non è risolto tutto. Io pensavo che volevo fare la morte in diretta. Lui ci tofano, ma che è? Che è successo? Che è successo? Che è la papà che è la casa tua? Che è la tua? Ti immagini. Pronto? Sono io. Ara. Che è la tua? Ma che è? Che è stato? Ma che è? Ma che è successo? Cur, che è la casa tua? Che è la casa tua? Uaia. Guarda quella ragazza che non sta bellina con quella... Sì, mamma mia, che ci facciamo i cazzi di tutto il quartiere, però, eh? Ma è la commessa. E chi è commessa? Vabbè, ti è. Penso che non mai non è successo più niente. Può chiudere. Adesso noi chiudiamo e c'è il cadavere. Come si vede che è cambiata la inquadratura? Un'altra volta che mi trema tutto. Voglio, ma non ne oderemo...